Siamo con Massimo Barbieri, tecnico dello Scandiano, il Follonica vince per 4 a 2, però una buona partita da parte della tua squadra che è rimasta agganciata al match in pratica fino alla fine. Sì, questo ci dà soddisfazione, tra l'altro la curiosità della partita di questa sera da parte nostra è che eravamo pronti ancora a giocare nella formazione precedente senza i due ragazzi spagnoli, senza David Ballestero e Josep Hernandez e proprio all'ultimo momento si è sbloccata la situazione e abbiamo saputo che potevano giocare anche loro. Grande gioia da parte nostra e subito curiosità di come potevamo amalgamare il lavoro che stavamo facendo, noi abbiamo giocato praticamente 8 partiti in emergenza, con il loro rientro. Sì, devo dire che è andata abbastanza bene. C'è soddisfazione anche perché è una stagione davvero complicata per tutti, per voi insomma in maniera particolare. Sì, sì, per noi è diventata veramente complicata però per ora abbiamo trovato la forza di continuare, ci stiamo trovati questi ragazzi giovani che sono ragazzi del 2003, due che sono entrati e un 99 che in quel periodo di emergenza hanno veramente acquisito tanta esperienza e questo ci ha fatto piacere. Prima dell'emergenza nostra non riuscivamo a fare tutte queste rotazioni che abbiamo fatto questa sera e questo mi dà tanta soddisfazione e speranza per il futuro. Noi non è finito il nostro campionato, adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili e poi vedere nei play-out cosa succede. Ecco, prossimo match fra l'altro scontro diretto con il Monza, quindi una partita molto importante. Non so se posso definirla quasi fondamentale, direi che è una partita fondamentale, giochiamo a Scandiano, dobbiamo riuscire veramente a trovare la strada per cercare di fare il meglio possibile. Alessandro Franchi, ex del Follonica, lo Scandiano perde al Capanino per 4-2, però fa una gara gagliarda importante, tiene testa al Follonica e rimane in partita fino all'ultimo istante. Sì, sì, è stata una partita complicata per noi, venivamo da un momento molto difficile e i ragazzi hanno saputo solo ieri sera che potevano rientrare per i problemi di Covid, quindi è stata una gara difficile. Abbiamo cercato di tenere botta fino alla fine, onore al Follonica, comunque sapevamo che venire qui non sarebbe stato facile, non era facile per nessuno, però prendiamo questo come un punto di partenza perché la fine della nostra stagione deve ripartire da ora, abbiamo saltato troppe partite, giocando veramente contati, quindi la nostra stagione riparte da ora e pensiamo subito alla prossima che sarà col Monza. Ecco appunto, abbiamo parlato anche con il mister Barbieri, una partita che l'ha definita fondamentale per la vostra stagione. Sì, sicuramente, sarà mercoledì forse, sarà una finale, per noi è una partita da vincere, dobbiamo cercare anche con i ragazzi che sono appena rientrati di rimettere un po' di gioco, un po' di ordine, un po' di benzina nelle gambe per ripartire in questo finale di stagione che, visto che andremo sicuramente a play-out, cercare di fare il più possibile e poi giocarci il tutto per tutto a play-out. Senti, per te che sei nato e cresciuto okestamente qui a Follonica, che effetto ti fa vedere il capannino deserto, ecco? Un po' come tutte le piste, ma il capannino soprattutto? Eh no, il capannino deserto è triste, è molto triste, ma appena sono entrato ho sentito nessuno, non c'era nessuno, è veramente una tristezza infinita. Ora purtroppo la situazione è questa, speriamo che dalla prossima stagione si possa riprendere un minimo di normalità, perché credo che ne abbiamo bisogno tutti. Marco Pagnini, Follonica batte lo scandiano 4-2, un gol, quale miglior modo per festeggiare il tuo compleanno? Sì, dai, più che altro sono contento della vittoria, diciamo, era in programma nel senso che ci eravamo dati come obiettivo delle partite in casa di vincerle tutte da qui a fine stagione e anche stasera ce l'abbiamo fatta dopo la partita di Monza. Per il gol sono contento, potrebbe entrare qualche pallina in più, ma il portiere loro ha parato molto bene, io magari sono stato un po' impreciso, però, insomma, è stato bravo lui. Lo scandiano ha tenuto benissimo la pista, è rimasto un partita fino alla fine, però era troppo importante per il Follonica, anche dopo l'amarezza, insomma, di Forte De Marmi, tornare a vincere e mettere tre punti in cascina. Ma sì, complimenti allo scandiano perché, insomma, dopo la situazione che hanno avuto non è facile ripartire e, insomma, ritirarsi su in classifica. Stasera, secondo me, loro hanno fatto la partita che dovevano, aiutati da un grande portiere e, niente, l'hanno tenuta lì tutta la partita e poi quando risulta in equilibrio diventa difficile, insomma, allungare. Comunque, siamo contenti per la vittoria, nonostante potessimo fare un pochino meglio a livello di gioco e di brillantezza. Complimenti in bocca al lupo. Crepio.